Allora, buonasera. Sono Maurizio Ricci, vi faccio il giornalista, ma con me ci sono quattro professori. Anzi, tre professori e uno dei grandi scrittori visionari della nostra epoca. Il professor Adam Arvidsson, che insegna sociologia alla Statale di Milano. Il professor Stefano Epifani, che insegna tecnologia applicata alle comunicazioni di impresa alla Sapienza a Roma. Bruce Sterling, che è l'autore di Mirror Shades, ma è anche all'Università di Torino. E un local boy, che è il professor Dino Pedreschi, che insegna al Dipartimento di Informatica qui a Fisa. Ora, l'archivio diaristico di Pieve e Santo Stefano sarà anche grosso, ma se stiamo parlando di Big Data temo che sia proprio una briciola. Allora, se siete qui probabilmente di Big Data sapete anche più di me. Però sarà il caso di delimitare il territorio, per spiegare di che cosa parliamo. Noi parliamo di Big Data non per l'enorme mole di dati che online arrivano attraverso Google, Facebook, i 400 milioni di tweet al giorno su Twitter, o il fatto che ogni secondo 800 milioni di persone caricano un'ora di video su YouTube. Il vero salto, la discontinuità, è data dal fatto che un'enorme mole di dati esterna a questo mondo, e cioè quello che le registrazioni del TV al circuito chiuso, quello che i GPS ci dicono attraverso i navigatori, di come si muovono le auto, il traffico delle carte di credito, tutta questa enorme mole di dati oggi può essere digitalizzata e quindi navigata, gestita e manipolata. Quanto sono i Big Data o Big Data? Dunque, in termini scientifici, nel 2013 siamo arrivati a 1200 exabyte. Se non vi dice nulla, vi dico che 1200 exabyte è l'equivalente di 1200 miliardi di copie digitali del primo tempo di Via Colvento, che è un film lunghetto, ma insomma, voglio dire, e se neanche questo vi dice nulla, vi dico che questa roba, se noi la riversassimo su CD, equivarrebbe a cinque torri alte da qui alla Luna. Ma quanto valgono, visto che il tema della nostra tavola rotonda è il business dei Big Data, quanto valgono questi dati? I fantastiglioni di Paperone, cioè non lo sa nessuno evidentemente, però io vi giro una provocazione. Un tentativo di approssimazione per capire, diciamo così, di cosa stiamo parlando, che trago da un libro che si chiama Big Data, il libro non è stato ancora tradotto, credo, in italiano, quindi la dico all'americana, Big Data, che è di Victor Meyer, Schoenberger e Kenneth Kukia, i quali fanno questo conto. Facebook, quando viene quotato in borsa, lasciamo perdere quello che è successo dopo, quando viene quotato in borsa viene valutato a 104 miliardi di dollari. Solo un anno prima, nel bilancio di Facebook, gli attivi venivano computati a 6,3 miliardi di dollari, si trattavano gli attivi materiali, i server, i computer, i macchinari, il coso di ufficio, eccetera, eccetera. La differenza è circa 100 miliardi di dollari. Possiamo pensare che questi 100 miliardi di dollari sia il valore dei dati. Allora, siccome su Facebook, in questi ultimi anni, dal 2009 al 2011, sono transitati 2 mila miliardi di pezzi di contenuto monetizzabile, i post, i like, tutti i vari riferimenti, questo vuol dire che praticamente ogni volta che voi cliccate ai like, questo vale 5 centesimi di dollaro, naturalmente per le tasche di Zuckerberg. Allora, il professore Arbiton, ha senso questo tipo di conti? No. Parliamo di Facebook. Allora, la quotazione, il valore di Facebook, che ha accompagnato l'IPO di Facebook, che non mi ricordo male, all'epoca era di 100 miliardi. 104. Il motivo della valutazione di Facebook di 104 miliardi nell'IPO risiede principalmente dal fatto che il Goldman Sachs aveva lanciato un anno prima un fondo di investimento che investiva nel mercato secondario di azioni Facebook, cioè quel mercato inufficiale delle azioni Facebook, un fondo destinato ai clienti molto ricchi della Goldman Sachs, perché l'investimento minimo in questo fondo era di un milione di dollari a persona, che commerciale investiva circa 5% della proprietà di Facebook, ad una valutazione implicita di 100 miliardi. Quindi molto probabilmente la valutazione di Facebook a 100 miliardi aveva molto più a che fare con la necessità di mantenere una sorta di fiction del valore di Facebook che era già stabilito dentro al Goldman Sachs e dentro ad altri attori nel sistema bancario, che con qualche reale stima del valore di Facebook. Se vogliamo parlare abbastanza chiaramente, nessuno sa quanto vale Facebook. La valutazione di 104 miliardi è una valutazione, un price earnings ratio, che è un po' la misura che di solito si usa per parlare della valutazione delle aziende, di più di 100, perché Facebook stima negli introiti pubblicitari intorno a un miliardo di dollari all'anno. Quindi Facebook dovrebbe valere 100 volte i propri introiti. Se questo lo possiamo comparare con la media della Standard & Poor's 500, che è di 9, 8, 9. Google è 29. Quindi Facebook dovrebbe essere 10 volte più redditizio di Procter & Gamble, per esempio. Non è stato mai mostrato una cosa del genere. In realtà Facebook è una società senza business model. Guadagna molto poco sulla valorizzazione delle attività degli utenti tramite la pubblicità, e principalmente una venture finanziaria. Uno può, studiando un po' da questo punto di vista, Facebook diventa modo anche di spiegare tutta una serie di azioni, come l'acquisizione dell'Instagram, eccetera, eccetera, che sono essenzialmente delle azioni che servono a mantenere una sorta di finzione sul potenziale valore di Facebook, che è in grado di reggere quella continuità della bolla web 2.0, che è una delle poche cose che ancora rimangono nel ciclo di accumulazione finanziaria dopo il crisi del 2008. Il business del big data è una bolla, no? Ma non dico che il business del big data in se stesso è una bolla e sarà sempre una bolla. Secondo me, i big data possono contribuire a dei valori di uso molto interessanti e possono aprire delle nuove frontiere di business dei nuovi mercati. Però adesso, come adesso, non abbiamo un business model per il big data reale. Ci sono, se guardiamo Facebook, Twitter ancora di più, Twitter non ha un business model che funziona, Twitter non è sostenibile economicamente, se guardiamo gli introiti pubblicitari, eccetera, eccetera. Nonostante questo ha una valutazione adesso di 40 miliardi, mi sembra qualcosa del genere. Quindi, adesso, come adesso, big data sono, cioè l'ondata di big data diventa una nuova convenzione finanziaria che è in grado di legittimare degli investimenti che hanno molto poco a che fare con la produzione di valore di uso, cioè la produzione di beni e servizi che in qualche modo sono utili alle persone e molto a che fare con il problema di in qualche modo far andare avanti un sistema finanziario che adesso, dove adesso le opportunità di investimento scarseggiano, perché i capitali che girano sui mercati finanziari dopo 5-6 anni di quantitative easing sono di gran lunga superiore a reali spocchi di investimento, per così dire. Però, anche se andiamo a vedere l'economia, per così dire, reale di Facebook, cioè la sua capacità di valorizzare i spazi pubblicitari e vendere pubblicità, che è il modello, diciamo, economico principale di Facebook per adesso, è anche un utilizzo molto poco utile dei big data, perché adesso Facebook siede su un patrimonio dell'umanità senza precedenti storici, dei dati sulle nostre attività in rete, le nostre preferenze, i nostri like, eccetera. Google è la stessa cosa. Adesso questo patrimonio dell'umanità viene utilizzato principalmente per migliorare il targeting di pubblicità di shampoo, scivo per cani e altre cose del genere. Forse non è, diciamo, il modo migliore, il modo più utile di utilizzare questo patrimonio. Uno potrebbe anche immaginare che, con la disposizione, i dati di Facebook, i dati di Google, le persone che fanno big data, qua nel Panel Sun capiscono benissimo questo problema, si potrebbero individuare tutta una serie di servizi che vanno a fornire dei dati che riescono a aprire i mercati intorno a cose come sostenibilità ecologica, transizione verso dei sistemi energetici di trasporto più efficienti, nuove forme di consumo solidale, eccetera, eccetera. Quindi c'è un potenziale ad aprire dei nuovi mercati con i big data, però questo richiede un cambiamento di paradigma, un cambiamento di paradigma che, secondo me, potrebbe avvenire quasi unicamente da un punto di vista politico. Ora, se mi permetti ancora un minuto... Ah, non sono stressato, posso anche parlare più lentamente. Va bene. Pensavo fosse proprio... Devo esprimere le cose... Ok, va bene. Allora, se andiamo a guardare Facebook, Facebook ovviamente è una società che, al di là, diciamo, del suo modello finanziario, cioè che è essenzialmente una venture finanziaria, all'isotto di questa cosa Facebook sta abbastanza faticando nel trovare un business model. Una delle soluzioni che Facebook adesso sta tentando di lanciare è di diventare una banca, perché con il modello dei credits Facebook potrebbe essere un sistema, una piattaforma per gestire i micropagamenti online, perché quello che è Facebook adesso è la cosa più simile ad una carta di identità online, essenzialmente, che garantisce affidabilità, trust, eccetera, eccetera. Quindi potrebbe essere un modo abbastanza semplice di gestire dei pagamenti intorno ai 50 centesimi, un euro per comprare una canzone, e altre cose del genere. Questo ovviamente permetterebbe a Facebook di effettivamente diventare banca, cioè capitalizzare sui differenziali di tassi di interesse, su tempi di pagamento fra gli utenti Facebook e poi quello che Facebook pagherà poi ai servizi intorno a questo ecosistema. Un'altra cosa che secondo me potrebbe essere un possibile business model per Facebook utilizzando i big data che effettivamente ha, potrebbe essere quella di diventare un piattaforma per le nuove economie partecipative. Intorno al mondo stanno nascendo tutta una serie di iniziative del basso che sta trasformando l'economia agroalimentare, i vari gas, i vari local food networks, ci sono i vari maker, ci sono i vari forme di crowdfunding, microventure, impresa sociale, eccetera, eccetera, che sono adesso tutte realtà che faticano a trovare dei capitali degli investimenti. Facebook potrebbe diventare una sorta di eccellente mediatore che è in grado di mettere questa nuova sorta di economia fatta di small network, per così dire, microimpresi in rete, in contatto con degli investitori, eccetera, eccetera. Però questo richiede ovviamente un cambiamento radicale del business model di Facebook, questo richiede un'apertura dei dati, è un'apertura verso un'ecologia di applicazioni fatte dal basso che utilizzano i dati di Facebook, che è un modo di pensare il business model che è completamente diverso dal paradigma attuale di Facebook, perché il paradigma attuale di Facebook è valorizzare i dati vendendoli a Nielsen o tramite Nielsen agli investitori pubblicitari, che si basa ovviamente su una chiusura dei dati, si basa sul fatto che Facebook è l'unico che dispone di questi dati. Quindi anche per salvare Facebook da se stesso, secondo me, è necessaria una sorta di pressione politica che in qualche modo lo crustingi ad essere più utile. Questo è esattamente il contrario di quello che noi pensiamo quando si parla di data, di data, cioè invece di uno sfruttamento economico, è una sorta di apertura che consente, non stiamo andando in quella direzione. Cioè, sul caso di Facebook, il caso di Facebook è solo un riposo, cioè, qual è il tipo di business che oggi si fa, soprattutto marketing? Beh, il tipo di business che oggi si fa su Big Data, ma probabilmente tu ne sai molto più di me, di questa cosa, è che da un lato ovviamente ci sono i, diciamo, i big data giants come Facebook, Google, eccetera, che un po' usano il Big Data per vendere pubblicità, e cercano abbastanza disperatamente a trovare altre soluzioni, tipo micropagamenti, eccetera, eccetera. Poi ci sono ovviamente tutto il business dei big data dentro ai sistemi di impresa, dentro alle grandi corporation, dove i big data ovviamente servono un po' a trovare delle nuove nicchie di mercati non aspettati, che con i sistemi di data tradizionali non si riuscivano a trovare. Un po' servono a creare sistemi per migliorare cateni logistiche, sistemi di produzione, eccetera, eccetera, per migliorare, diciamo, l'efficienza di un sistema che già esiste. Però dentro a questo paradigma il potenziale di big data, diciamo, di radicalmente rivoluzionare il funzionamento dei processi di produzione e consumo, che secondo me c'è ed è una possibilità molto interessante, dentro a questo tipo di sistema non viene realizzato. Poi ovviamente il big data in finanza anche è un altro aspetto che magari tocchiamo in un altro... No, ovviamente, ma anche lì è chiaro che anche dentro il sistema finanziario il big data, come è stato toccato anche dalla relazione di Fabrizio nella sezione precedente, dove si parlava degli hedge fund che utilizzano circa un trilione di... un terabyte di dati ai giorni per le loro operazioni, eccetera, eccetera. È un modo di utilizzare i dati dove il paradigma è quello di trovare dei piccoli piccoli nicchie dentro un sistema che ormai è quasi saturo. Si dice addirittura che adesso i server che stanno, diciamo, i server che stanno vicini ai server centrali dei grandi stock exchange hanno dei prezzi stratosferici perché il modo di fare soldi in finanza è di guadagnare qualche microsecondo, qualche millisecondo nelle transazioni. E questo ovviamente ci parla di un sistema dove in qualche modo i scopi di espansione di mercato sono ormai quasi saturi, cioè si guadagna sui piccolissimi margini. È la stessa cosa con gli hedge fund, con l'utilizzo di sentimentata, eccetera, eccetera. È sempre il tentativo di seeking alpha, di trovare questo piccolo vantaggio rispetto agli altri. Però è chiaro che uno dei problemi politici fondamentali della nostra epoca è quello di in qualche modo riformare i mercati finanziari. La finanziarizzazione dell'economia che abbiamo visto negli ultimi 30 anni è stato un enorme spostamento di risorse, di benessere dall'economia dello scambio di merci verso un'economia finanziaria. Stanno emergendo dentro all'economia di produzione e consumo tutta una serie di forme innovative, nuove, di innovazione, che comunque soffrono di una mancanza di capitali e che non sono, diciamo, nei radar degli investimenti finanziari. Perché prendete la sezione dell'impresa sociale, per esempio, che sono dei sezioni molto innovativi, molto creativi, molto attivi, specialmente in Nord Europa, sono tutti senza investimenti. Perché semplicemente non ci sono i dati, non ci sono i sistemi informativi per in qualche modo valorizzare quello che fanno, per dare un valore monetario all'utilità sociale che sono in grado di produrre. Questo, secondo me, è il ruolo fondamentale dei big data, di creare una sorta di nuova connessione tra i mercati finanziari ed una nuova economia innovativa che sta emergendo dal basso, di creare questa sorta di ponte fra i due. Perché se guardiamo un po' la situazione in un modo un po' più complessivo, sapete, conoscete sicuramente la Population Institute Report che è uscito in Inghilterra l'anno scorso con il titolo enigmatico 2030 The Perfect Storm. In 2030 c'è la convergenza fra crisi energetica, riscaldamento globale, crisi acquatica, sovrappopolazione, declino della produttività agricola, eccetera, eccetera. Un perfect storm che scombulserà, trasformerà in un modo estremamente radicale i nostri, cioè, fondamente per i nostri stili di vita. Allora, i nuovi mercati che si possono aprire adesso hanno a che fare ovviamente con come gestire questa transizione, come cambiare i sistemi di trasporto, di produzione energetica, agroalimentare, eccetera, eccetera, in modo tale che sono in grado di essere res silent rispetto a questo tipo di trasformazione. Per un problema del genere è necessario degli investimenti finanziari enormi. I big data possono essere un modo di valorizzare, di identificare i ventures che sono effettivamente in grado di creare valore in questo modo, aprire dei nuovi mercati di investimento e in questo modo resocializzare i mercati finanziari in un modo prodottivo e progressivo. Ho capito, ma visto in questi termini big data sembra soprattutto ancora una grande opportunità che non si è ancora capito come utilizzare, cioè una sorta di grande riserva che nessuno ha ancora trovato il modo di... E' così, professore Pifani? Io non ho capito se è sempre con questo? Sì, no, sì, sì nel senso che il microfono è questo, non sì nel senso che, intendiamoci, che poi qui i giornalisti li fanno dire quello che vogliono. Peraltro mi verrebbe da dire e mi ripeto la domanda sono sempre più un imbarazzo perché vedo qui tante persone che probabilmente si aspettano, non dico risposte ma quantomeno come dire opinioni e probabilmente usciranno con domande perché permettetemi di dire che se gli ottimisti sono quelli che pensano di sapere dove va al mondo i pessimisti sono quelli che lo sanno nel senso che ma siamo sicuri che sia un'opportunità? No, per capire. Ossia io comincio a pensare che in realtà i big data più che un'opportunità siano una condizione di fatto poi ho una teoria si parlava prima di grandi aziende che si occupano di finanza poi io come dire ho un rapporto particolarmente amoroso con le consulting questi ogni tanto devono inventarsi qualche termine nuovo per rifare il giro dei clienti e vendergli qualcosa stavolta è toccata ai big data o big data alla latina e sono anni che parliamo di questi benedetti big data e va bene io parto da una considerazione prima si davano un po' di numeri ve ne do a qualcun altro anzi peraltro mi sa che ce li ho anche mi hanno detto di fare delle slide io ho anche fatto delle slide la buona notizia è come dire la cattiva notizia per voi è che sono una sessantina la buona è che parlo veloce quindi insomma dovremmo riuscire a cavarcela con poco ma tanto mi servono soltanto per scorrere tra le slide vi do un po' di dati di questo tipo dunque vediamo un po' sempre per dire che le cose non è che nascano ieri insomma io vi riporto questa definizione sapete chi ha dato questa definizione del contesto verso il quale stiamo andando? ditemi un po' questo cos'è Gartner un rapporto Gartner Tesla nel 1926 come a dire è dal 1926 che va avanti sta faccenda io poi ho l'impressione che quando non si abbia niente da dire si tirano fuori o la domotica o i big data ogni tanto riemergono ora scherzi a parte il problema è che da quando Tesla ha detto queste cose la situazione diventerà un po' più complessa e ci troviamo in questo contesto ossia noi ogni due giorni creiamo la stessa quantità di informazione che sarà prodotta dagli albori della civiltà fino al 2003 con il risultato che ogni anno abbiamo 40 exabyte di nuova informazione che visto che si parlava prima di cd ve ne do una con un altro parametro i fogli di carta io sono più analogico lui è sui cd io sono sulla carta ecco se noi stampassimo 40 exabyte di carta otterremmo una pila che va dalla terra a Plutone ecco questo lo produciamo tutti gli anni ora abbiamo un problema secondo me abbiamo un problema non è un'opportunità è un problema perché è un problema? perché oltretutto mentre stiamo producendo tutti questi dati ci troviamo in un contesto in cui tanto per dirvene una il 25% una cifra che si stima sia compresa tra il 25% e il 35% dello spazio presente nei container è vuoto quindi noi abbiamo da una parte un universo digitale che amiamo rappresentare in questo modo dall'altra un universo che è tutt'altro che digitale che in realtà funziona in questo modo e i risultati sono di questo tipo qua io qualche problema me lo creo a questo punto anche perché questi due universi io ho tanto l'impressione che vengano vissuti con una dinamica di questo tipo cioè noi da una parte abbiamo i digitali dall'altra abbiamo gli analogici da una parte abbiamo i big data i social network dall'altra abbiamo chi sposta pacchi chi produce carta eccetera eccetera e tutti e due pensano che il problema l'origine di tutti i problemi sia dall'altra parte del campo e passiamo il tempo a rimbalzarci sta povera pallina questa qui che vedete piccolina senza renderci conto che il problema è tutto il campo cioè è il mondo che è cambiato perché non c'è come dire un universo analogico e un universo digitale noi siamo nello stesso universo e mi rendo conto che farvi vedere questa alle sei è cattiveria però in qualche modo dovremmo cercare anche di coniugare la parte analogica dell'universo con quella digitale ossia big data lato mondo digitale e materialità anche perché se riuscissimo a gestirla in questa modalità ossia in maniera sinergica noi ci renderemo conto che ci sono alcuni fenomeni che vengono dalle tecnologie che questo tema dei big data non solo lo stanno rendendo come dire drammaticamente urgente ma anche come dire da risolvere rifacendomi alla domanda che mi veniva fatta altro che opportunità qui abbiamo un contesto in cui ci stanno cambiando le cose sotto le mani e non ce ne rendiamo conto e queste cose cambiano perché dentro c'entra l'IT e quando c'entra l'IT queste cose cominciano a produrre dati ora per spiegare bene questo contesto io non ho mai trovato nessuno migliore di questo signore qua io non seguo molto il calcio però mi dicono che questo è un calciatore che ha giocato anche in Italia io l'ho conosciuto perché è diventato un come dire protagonista di un di un movimento politico brasiliano un movimento anarchico perché rispondendo a una domanda di un giornalista poi uno si spiega perché con i calciatori salvo ovviamente presenti e parenti presenti si sposano con le veline non sono particolarmente svegli diciamo gli risponde in questo modo io a questa domanda non rispondo perché una cosa è una cosa e qui sentite la pillola di saggezza un'altra cosa è un'altra cosa voi direte grazie il punto qual è è che questo ci aveva ragione perché la vera domanda è cosa diventano le cose quando ci mettiamo dentro l'IT e quando cominciano a produrre dati ce lo siamo chiesto ossia molti di voi sono con in mano un ipad con in mano un telefonino ecco prendiamo con uno smartphone scusate uno smartphone scusatemi ecco uno smartphone è un telefono intelligente o è un'altra cosa rispetto a un telefono noi siamo sicuri che banalmente anche le sedie nel momento in cui come dire acquisiscono una dimensione vicina all'ambito IT rimangono sedie perché il tema è drammaticamente preoccupante perché una sedia IT una smart sedia diciamo così se vogliamo chiamarla in qualche modo è qualcosa che per esempio comincia ad acquisire un'identità e quindi parla col sistema e dice io non sono una sedia sono la sedia X sono la quarta sedia della sesta fila dell'aula magna dell'accademia di Sant'Anna dell'accademia di Sant'Anna è qualcosa che parla cioè questa cosa ve la dice in rete è dotata di sensoristica e quindi magari sa quanto pesa chi ci ha seduto sopra signore tranquilla non ha ancora implementata questa cosa nel momento in cui sa tutte queste cose e comunica con il sistema comincia a produrre una quantità di dati che oggi noi neanche riusciamo lontanamente a immaginare né in termini di quantità né in termini di uso possibile perché poi il problema è che se stiamo andando di fronte a questo scenario in cui avremo questo è il machine research ce ne sono altre che mettono i numeri più in alto i numeri non li sa nessuno in realtà comunque ci dicono che nel 2020 arrivano tra i 25 e i 50 miliardi di device connessi ci dicono che nel 2020 ogni volta che usciremo di casa incontreremo qualcosa come mille o duemila device connessi e la rete in qualsiasi percorso faremo mediamente entreremo in contatto con mille o duemila device connessi mille o duemila device connessi che parleranno ci diranno delle cose parleranno con il sistema se ci parlano già è un vantaggio e quando parlano di noi senza che ce ne accorgiamo che mi comincio a porre qualche problema e in tutto questo sono un'opportunità questi big data io penso che sia una necessità perché 50 miliardi di device anzi scusatemi sono un dato di fatto perché 50 miliardi di device che parlano con la rete e producono una quantità di enorme noi siamo già qui la cosa divertente voi sapete cos'è il Gartner hype cycle for emerging technology è quella cosa che ogni anno fa Gartner per la quale viene pagata che dice guardare che le cose stanno andando in questo modo tanto poi la verifica è posteriore dopo che ha preso i soldi quindi sostanzialmente sono anni che la vende e va bene così però li mette già qui vedete li mette qui big data internet of things big data tutte queste cose delle quali si comincia a parlare tra poco comincerà il viale del tramonto cioè il momento in cui diremo ne abbiamo parlato troppo non funziona io mi sto anticipando e poi troveremo in qualche modo un senso a tutto ciò il problema vero è che è questo cioè siamo sicuri di aver come dire piazzato collocato la dimensione del problema è un'opportunità noi non possiamo farne a meno ma non dei big data perché i big data sono qualcosa che ci sarà della business intelligence perché la verità è che noi non abbiamo la più palle di idea non come costruirci business ma come capirci qualcosa le piccole e medie imprese italiane si stima che spendono qualcosa come un milione e mezzo di euro oggi non domani per comprare informazioni che hanno già è capitato anche a me mi trovo a vendere una ricerca dico guarda che già l'ha comprata l'altro 2000 euro per carità era multi client l'ha già comprata l'altro l'altro settore dice no no rivendimela che faccio prima e questa è la realtà noi ne abbiamo siamo soverchiati da informazione si stima che poi si stima che sono fantastiche però ho letto una bella ricerca dice il 25% delle decisioni delle informazioni che hanno i manager per prendere decisioni sono tendenzialmente sbagliate tradotto un'informazione su 4 ci fa sbagliare quindi serve business intelligence dobbiamo dare intelligenza a questi dati che se no non riusciremo a connetterci non riusciremo a far parlare le cose tra di loro le cose perderanno un pochino come dire il nostro dominio e diventeranno da sole come dire cominceranno a ragionare da sole quando le cose iniziano a pensare c'era un bel libro che poneva questo problema ve lo ricordate questo? soltanto i più nerd tra di voi riusciranno probabilmente a ricordarselo abbiate il coraggio di fare coming out nerd ne ho visti diversi su tirate su quelle manine niente questo è il famoso tu fai dice e ti dici di no vabbè questo è il trycorder quello di Star Trek eh quello lì vi ricordate ecco l'hanno rifatto la fondazione Gates ha pagato 30 milioni di euro nella società per realizzare il trycorder che naturalmente funziona su uno smartphone ossia si sta ponendo il problema di consentire ai dati quindi all'universo digitale di parlare di comunicare con le cose in maniera dinamica interattiva quindi l'universo di quello che chiamano internet delle cose e questa forse è la chiave di lettura alla quale dobbiamo stare attenti quando parliamo di big data perché big data hanno poco senso se non ci rendiamo conto che sono riferiti a una realtà materiale se non ci rendiamo conto che vengono prodotti da cose se non ci rendiamo conto che l'economia dei big data come deriva dell'economia della finanza eccetera eccetera è qualcosa di scollegato dalla realtà dobbiamo ricollegarla alla realtà e cercare di capire cosa sta diventando il mondo nel momento in cui l'information technology entra nelle cose per tornare al discorso che facevamo prima anche perché poi se decliniamo il tutto in questo modo ci rendiamo conto che i vantaggi ci sono e quindi ecco che in qualche modo come dire dopo la part di instruments comincio con una piccola piccolissima part construance beh i big data insieme all'internet delle cose all'internet of things all'internet of everything chiamatela come vi pare è quella cosa che ci consentirà appunto di connetterci che ci consentirà di controllare controllare cosa la salute tra il famoso 2020 avremo un terzo della popolazione che sarà anziana se non troviamo sistemi di telecontrollo di telemedicina come la gestiamo la situazione ecco i big data sono uno strumento che può aiutarci in questo lo stesso discorso vale ovviamente per il tema dei trasporti pensate al monitoraggio ambientale e via dicendo e questa è la cosa che mi piace di più pensate quando le cose produrranno informazioni che per esempio ci aiutino a cercarle questa per esempio io penso che tutti quanti vorremmo averla e questa è una conseguenza dei big data è una possibilità che ci viene dal momento in cui quella cosa cioè il nostro portachiavi parlerà con il sistema e consentirà al sistema per esempio di identificarlo dove sta voglio dire c'è chi ha problemi come dire più grandi io immagino che ci troveremo anche di fronte a soluzioni di questo tipo ecco in tutto questo insomma parlo ai papai in sala insomma gli mettiamo un bel cippettino e ovviamente poi insomma non approfondiamo e ovviamente tutto questo poi cade intorno all'altra buzzword perché poi big data è un po' una buzzword cioè quelle parole che diciamo per farci belli gran nerd smart city e anche le smart city sono una conseguenza dell'internet delle cose e sono una derivazione dei big data cioè dobbiamo renderci conto che tutto è collegato poi spesso noi facciamo il convegno sui big data il convegno sulle smart city il convegno sull'open data il convegno sui social network che nessuno si parla e nessuno si rende conto che stiamo dicendo le stesse cose stiamo semplicemente dicendo che il mondo sta cambiando sta cambiando in un modo che riguarda tutti quindi non è che possiamo dire i big data non ci interessano è un tema che non mi interessa i big data sono un tassellino di un universo che sta declinandosi in maniera completamente nuova il problema è che lui si sta declinando e questo comporta da parte nostra come dire un atto di umiltà dire dobbiamo aprire la nostra testa e schiaffarci dentro il fatto che ormai quando cominciamo a mettere l'information technology dentro le cose e queste cose cominciano a produrre dati ci si pongono nuovi problemi e ci dobbiamo rendere conto che non è più una questione di ferraglia ma una questione che in qualche modo ci riguarda tutti ma ci riguarda parlando di modelli di business in che modo questa qui è una visione ottimistica signori perché perché questo come dire è lo scenario tradizionale dell'economia quella senza i big data senza internet eccetera eccetera quello scenario per il quale almeno possiamo aspettarci chi è il nostro competitor ma io mi sono trovato in grosso imbarazzo quando tempo fa mi ha chiamato un mio caro amico per dirmi che la sua fidanzata l'aveva lasciato il problema è che in un contesto di relativismo culturale l'ha lasciato per un'altra e questo mi disse una cosa abbastanza interessante mi disse Stefano non me la disse esattamente in questi termini fu un po' più volgare però mi disse ma avesse lasciato per un uomo mi regolerei capirei se ho ma questa mi ha lasciato per una donna e non riesco a comprendere quali siano le leve e quali siano i sistemi di valore che questo meccanismo innesca ossia non riesco a governare il processo di cambiamento è quello che sta succedendo alle nostre aziende perché se non ci rendiamo conto che l'information technology con i big data perché alla fine sono un pezzo sostanziale entra nelle cose e cambia i mercati finiremo come la Kodak perché oggi chi vende fotografia viene dalle stampanti finiremo come le società che fanno distribuzione sapete qual è la più grande società di distribuzione musicale oggi? Apple Apple viene dall'information technology la caratteristica di tutte queste aziende è che proprio grazie alla gestione dei dati che non è alla Facebook cioè faccio un business per gestire dati che non si capisce bene come debba gestire ma è utilizzo i dati per fare il mio business rimodellano completamente terraformano i settori dove planano e di conseguenza Apple entra nel settore della musica e lo cambia su immagine e somiglianza lo stesso fa HP con il settore della fotografia e questo è come dire il modo di usare i big data cioè di come usare i sistemi informativi di come gestire le informazioni capire che il mondo è cambiato e sfruttare quel cambiamento nell'ambito del proprio contesto di business altrimenti continueremo a chiederci cosa diavolo fare di questi big data e fare un po' come quando si balla la samba voi sapete come si balla un po' come fare innovazione si fanno due passi avanti uno di lato e uno indietro ecco è quello che stiamo facendo in questo momento il problema è che cominciamo a fare solo passi indietro perché non riusciamo a contestualizzare e non riusciamo a capire il fatto che i big data non sono un fenomeno sono un pezzo della realtà e in questo senso ci troviamo vi porto qualche dato ma insomma oggi ne vedremo tanti e queste sono queste sono le dimensioni del problema e come vedete stiamo parlando di un contesto che toccherà tutti i settori dell'economia e quindi la vera opportunità non è tanto di capire che i big data sono un'opportunità è quella di comprendere che la business intelligence che sta dietro i big data ossia come li leggiamo sti dati perché poi chi si occupa di teoria dell'informazione sa che i dati sono la cosa meno importante la cosa realmente importante è capire come costruire informazione su quei dati e come articolare quelle informazioni in conoscenza se no più dati abbiamo peggio siamo perché non riusciamo neanche a leggerli ecco quello che dobbiamo comprendere è che non stiamo parlando della prossima grande cosa stiamo parlando di una cosa della quale dobbiamo cominciare a preoccuparci occuparci oggi perché ha già cambiato il mondo e lo sta cambiando in maniera sostanziale e per evitare di fare la fine che come dire preconizza Popper probabilmente conviene che ci adeguiamo e cominciamo a comprendere che quando l'information technology entra nelle cose dobbiamo comprendere come sono cambiate le cose grazie allora big data come un magma in istinto in cui ancora bisogna capire come orizzontarsi come orientarsi però nella diciamo così percezione più diffusa dell'opinione pubblica i big data come minaccia nel senso che poi in fondo i big data sono diventati diciamo così un argomento di prima pagina nel momento in cui è esploso lo scandalo della National Security Agency e del fatto che attraverso i big data ci spiano allora questo è un problema diciamo così di privacy e di diciamo così di difesa nei confronti delle intromissioni dello Stato del potere politico del potere pubblico nelle nostre vite però forse non si ferma lì è uscito in questi giorni un libro in America un romanzo in America dei beggars che si chiama The Circle in cui la parte del grande fratello non viene svolta dall'NSI piuttosto che dal governo ma da una sorta di mix aziendale una sorta di concentrato di Google Facebook Twitter e questo tipo diciamo così il social network come prigione allora volevo chiedere a Bruce Sterling se sono queste le cose di cui ci dobbiamo preoccupare quando pensiamo alla Big Data devo dire che è veramente un piacere partecipare a un panel così informativo mi è piaciuto anche l'interludio musicale è stato molto divertente sicuramente più divertente che parlare delle agenzie americane che ci spiano in ogni modo parlare dei Big Data senza citare la National Security Agency in un certo senso è impossibile vorrebbe dire sarebbe ipocritico è un grande problema anche visto da una persona come me giornalista che analizza queste questioni e che è anche interessato in questi temi se c'erano se c'erano se c'erano di dissident defectors durante la Cold War Edward Snowden è un figlio molto interessante figure se si guardano per esempio i dati degli spionaggi durante la Guerra Fredda potremmo vedere dei dati interessanti e I would point out that although he's known as the National Security Agency's biggest defector ever he was actually a civilian contractor vorrei anche dire che la National Security Agency si avvale anche di contractor he was actually working for a commercial company which was associated with the National Security Agency in order to organize their enormous amounts of big data yeah Snowden was io ho lavorato anche per un'agenzia per un'azienda privata che lavorava per la National Security Agency in tema di big data e penso che l'indignazione attuale per la National Security Agency sia veramente sincera and I think you can see the shock waves of Snowden's revelation slowly moving through American society e io penso che l'indignazione di Snowden per il comportamento della National Security Agency sia veramente impregnando la società americana really nobody in the United States government or its covert services had actually considered what it was that the NSA and its contractors have built steadily since 2001 io penso che nessuno nel governo o nella National Security Agency aveva considerato quello che stavano costruendo dal 2001 a questa parte l'entità di quello che stavano costruendo ma è molto difficile separare big data dalle persone e dai processi dalle persone che hanno i big data e dai processi di gestione dei big data i big data hanno bisogno di grandi banche dati hanno bisogno di grandi menti di grandi investimenti materiali non è come un archivio molto grande archivio pieno di trattori big data è qualcosa che è interattivo e deve essere processato in real tempo e i big data non sono un archivio storico di tesori che restano così come sono in realtà i big data sono interattivi e in nessun modo questi big data devono essere considerati come un patrimonio di tutti gestibile da tutti i big data richiedono un processo di gestione di big data i big data appartengono a queste holdings proprietarie dei nostri giorni e i big data appartengono a queste holdings e io penso sia giusto anche citarle i big data appartengono a Google Microsoft Facebook Apple Amazon e anche alla National Security Agency non ci sono altre realtà che traggono vantaggi dai big data quindi invece di big data dovremmo dire big Google big Microsoft big Facebook big Apple and you know it's very difficult to compete with them in this big data arena because they have spent many years building these empires of proprietary hardware now and they're not conventional companies at all they're more they're more like entire digitized industrial piacere consumatori they compete with one another by disrupting one another they want to make one another irrelevant competono l'una con l'altra cercando di distruggere l'altra rendendo il concorrente sempre più irrilevante they want to demonetize the rival's revenue stream they want to give away what the rival sells vogliono demonetizzare il rivale vogliono togliere i profitti al rivale vogliono prendere loro quello che vende il rivale and big data is one of the major tools in accomplishing this e big data sono uno big data è uno strumento uno dei principali strumenti a questo scopo if I have the right kind of big data I can give away to your customers what you sell to them se io ho i big data giusti io come tuo concorrente posso fornire il tuo prodotto al tuo cliente and if you want to see how this works you can just study what Google and Apple together did to Nokia e se volete saperne qualcosa di più io vi consiglio di studiare quello che Google e Apple hanno fatto alla Nokia Nokia seems to be doing everything right by the dictum of the 1990s but compared to these stacks they were like children they were torn to pieces e se si analizza la Nokia alla Nokia tutto sembrava andar bene negli anni 90 ma se si confronta la Nokia con questi giganti veramente Nokia è stata fatta a pezzi and Apple hit them high with their integrated database of cultural materials which the iPhone supplies and Nokia could not supply I know that's a bit difficult I know that's a bit difficult cut them down from underneath e Google inventando Android ha praticamente tolto il respiro alla Nokia and Nokia Nokia is therefore now a captured pawn of Microsoft it's been subsumed by another of these very great empires e per questo e adesso Nokia rappresenta un piccolo puntino della grande Microsoft che ha acquisito Nokia and that's what the competitive landscape of the 20 teens actually looks like e qui possiamo vedere la competizione la concorrenza tra i 20 teenager del settore e adesso il paesaggio lo scenario competitivo è determinato da questi 20 ragazzi 20 ragazzini teenager non è più come negli anni 90 quando vi era il boom del punto com e non è più come nei decenni passati quando si è avuto il boom del web it's impossible not to face the existence hanno vantaggi hanno vantaggi veramente grandi molto più grandi rispetto alle piccole e medie imprese e sebbene e sebbene offrano numerosi servizi anche ottimi servizi ai clienti loro non hanno veramente bisogno di clienti al contrario e sebbene sono molto liete di fornirvi servizi gratuiti per sorvegliarvi preferiscono preferiscono inserirvi nelle loro banche dati piuttosto che avere soldi da voi ecco come mai vi offrono così tanti servizi gratuiti non penso sia una cosa sinistra non era una cosa che volevano veramente fare loro hanno semplicemente seguito le forze di mercato e io penso che la national security agency non voleva non voleva arrivare a un punto del genere sebbene abbiano costruito questa efficiente macchina di spionaggio io non li definirei come villani in numerose occasioni ho incontrato persone della national security agency e rispetto ai governatori ai membri del governo io devo dire che le persone che lavorano alla national security agency sono più timide sono più gentili li descriverei come modest timid timid e e persone timide come persone riservate E alcuni di loro mi hanno fatto i complimenti per i miei libri e mi hanno detto di essere desiderosi di leggerne ancora. E le persone che appartengono alla National Security Agency sono persone veramente come noi, potrebbero essere, sono come voi in questa sala e sono anche come le persone qua nel panel, parlano molto rapidamente, hanno una ampia conoscenza del materiale tecnico. So, in conclusion, it's rather hard for me to understand how this is supposed to work out. I can certainly understand European indignation at being subjected to surveillance by American National Security. Anch'io sono stato sorvegliato dalla National Security Agency americana. I mean, all I can do as a citizen of the United States is point out that they surveil us as well. I mean, we're actually in the same situation. E io come cittadino americano sono stato sorvegliato e mi piace pensare essere stato sorvegliato come cittadino americano. E io penso che alcuni membri della National Security Agency non fossero consapevoli del fatto che loro stessi erano sorvegliati e controllati da altri membri della National Security Agency. E penso che Edward Snowden abbia, si sia espresso e abbia parlato proprio quando si è reso conto di questa situazione. He didn't want to leave his job and realize that he was being subjected to the same things he was subjecting other people to. He is being subjected to the same problems as a civilian that he carries out as an employee of the NSA. He is auto-victimizing himself. Ok. Lui come cittadino è stato sorvegliato come un membro della National Security Agency. Praticamente lui si è reso vittima. So I expect to see more Snowden-like defectors. Quindi io mi aspetto di vedere sempre più Snowden. And it would not surprise me to see a few from GCHQ and maybe a few of the European Intelligence Services. E non mi sorprenderebbe vedere agenti delle National Security Europee esprimersi come ha fatto Snowden. It's really a severe moral problem for people like ourselves. È veramente un problema grave morale. I don't really have any easy or cheap solutions to offer to it. Non ho soluzioni semplici e facili da proporvi. But it's really the elephant in the room. I mean it's a thing the size of the elephant and we can't lie about it. Però penso dobbiamo esserne franchi, dobbiamo essere aperti. Non possiamo mentire a proposito. It's foolish to lie about it. It's like lying about narcotics or AIDS because they're embarrassing to talk about. Non possiamo mentire. Sarebbe come mentire su temi sensibili come la droga o l'AIDS. Non dobbiamo dire la verità. If there's anything good about it, it's one of the very few issues in contemporary American politics where people on the extreme right and the left agree on many things. Questo tema è uno dei pochi temi dove l'estrema a destra e l'estrema a sinistra sono d'accordo. So if you're interested in this subject, I would like to recommend a publication in closing. Se siete interessati a questo tema, alla fine potrei proporvi una pubblicazione. There's an English language newsletter. It's also in several other European languages. Called the European Digital Rights Initiative. Allora c'è una newsletter pubblicata in inglese e in altre lingue che si chiama European Digital Rights Initiative, E-D-R-I European Digital Rights Initiative. Very easy to find online. È facilmente consultabile, si trova facilmente online. Edri.org, edri.org, that's them, European Digital Rights Initiative. Questa fonte ha delle notizie migliori e più aggiornate rispetto a qualsiasi altra fonte di informazione sul tema. All I can do is wish us all luck in this struggle. It's going to be with us for quite a while. E' quello che vi posso augurare buona fortuna perché secondo me parleremo di questo tema ancora per lungo tempo. Thanks very much. Grazie mille. Beh, senza pretendere di riassumere, adesso per credito, a grandi linee. Voglio dire, abbiamo smantellato un po' la retorica dei big data. Arvidsson ci ha spiegato che sono un markma indistinto, non sappiamo ancora come governare. Epifani ci ha detto che questo markma ce l'abbiamo sullo stomaco. E' soprattutto un problema che dobbiamo risolvere, non sappiamo come. Sterling ci ha spiegato che tipo di minaccia in realtà questo comporta per tutti noi, sia nella versione pubblica che nella versione privata. Volevo chiedere a Pedreschi che facciamo, come ci difendiamo. Dunque, grazie. È un privilegio in realtà parlare dopo tutti questi diversi interventi perché mi permette di andare direttamente al cuore di quello che voglio dire. Il mio punto di vista è quello di un ricercatore che da vent'anni analizza big data. Li chiamavamo dati, semplicemente, prima. Poi sono cresciuti nel tempo, però a cercare di fare business intelligence, tirare fuori senso dai dati, è quello che chi si occupa, come me, di un campo che ha l'incrocio tra l'informatica, la statistica, la sociologia, l'economia. È un lavoro che facciamo da tanto tempo. Oggi siamo in un contesto nuovo, in cui lo facciamo avendo a disposizione potenzialmente sorgenti informative molto più dinamiche, molto più rappresentative, molto più globali, molto più ricche, con tutte le difficoltà che sono state qua dette, semplicemente da Bruce Sterling prima, il fatto che gran parte di questa conoscenza è in realtà molto poco accessibile, ad esempio per l'attività scientifica, ma anche per il business, diciamo, per le piccole start-up, perché in realtà sappiamo che la maggior parte di questa conoscenza sta nei forzieri di questo elenco di poche grandi player che sono stati chiamati prima per nome e cognome. Ecco, però vorrei, in qualche modo, io vorrei concentrarmi su alcuni aspetti di carattere etico e tecnico che vengono fuori parlando di business dei dati digitali. Io vorrei che fosse chiaro che questa nuvola digitale, le briciole che ci lasciamo dietro semplicemente vivendo e facendo le nostre attività attraverso l'information technology, sono in realtà anche un'opportunità senza precedenti per capire un mondo che sta cambiando rapidissimamente. Io sposo in pieno alcuni degli aspetti detti nel primo intervento da Arvidsson, quando dice che il mondo in cui siamo entrati, con questo livello di connessione in tutte le sfere dell'attività sociale ed economico, è una bestia diversa rispetto a quella che conosceramo prima. Abbiamo bisogno di nuovi paradigmi anche per comprendere e per capirla. Quindi non possiamo comunque prescindere, proprio come umanità, dal capire come è cambiata la trasformazione, diciamo, come è cambiato il funzionamento del mondo, lasciandoci aiutare dalla sua osservazione su grande scala. Siamo per il primo momento nella storia nella capacità di misurare i fenomeni sociali su larga scala con la precisione che ci danno quelli che oggi chiamiamo big data. E questo è veramente un aspetto legato al bene comune, legato alla possibilità, prima ancora che al business che può essere fatto su questo, è legato forse anche alla sopravvivenza della specie tra qualche decennio, quando arriveremo a quella tempesta perfetta che si nominava prima. Dobbiamo capire come un sistema complesso costituito da 7 miliardi di individui e delle loro innumerevoli relazioni funziona in un pianeta che è finito, che ha risorse finite, che ha risorse energetiche finite, che può produrre, sì, informazioni per arrivare fino a Plutone, ma che in realtà non ha ancora capito come funziona. E questo è un'emergenza, se vogliamo, democratica, è un'emergenza sociale, perché se questo non lo facciamo presto e possiamo solo far forza su questo tipo di opportunità nuova, possiamo correre rischi notevoli. Questi dati, questo è semplicemente una visualizzazione delle relazioni di Facebook a livello globale, mettono in luce il funzionamento, la struttura sociale che attraversiamo a diversissime scale, dalla scala globale fino a quella personale delle comunità che ci circondano e della rete sociale che abitiamo tutti i giorni e che possiamo cominciare ad analizzare in modo dinamico, evolutivo, capire come, ad esempio, una struttura sociale piuttosto che un'altra porta il benessere oppure l'ostacola, oppure porta innovazione e creatività, oppure l'ostacola. Siamo in grado, ora quando è un'animazione che non funziona, ma siamo in grado di rilevare attraverso molteplici dispositivi GPS piuttosto che smartphone, la mobilità e l'attività delle persone su scala finissima e comprendere il funzionamento delle città o il funzionamento del nostro ambiente sociale ben meglio di quanto fossimo in grado di fare soltanto pochi anni fa. Ma queste opportunità sono certamente sottoutilizzate. L'aspetto del big data come bene della collettività, come avanzamento alla comprensione di come funziona il mondo per poterci stare meglio, è un aspetto che non stiamo ancora governando. E la visione mercantilistica del big data, questa è la copertina del report del World Economic Forum che diceva i personal data, i big data, sono la nuova risorsa strategica e, diceva un commissario europeo, il petrolio del prossimo secolo. In realtà questa visione, secondo me, ha molte problematiche di carattere etico. Sotto il microscopio c'è l'umanità, ci siamo noi, non c'è più il batterio di cui non ci interessa molto l'aspetto dei diritti, eccetera. Ci siamo noi stessi e i temi etici che vengono scatenati sono molteplici. Io voglio soffermarmi su un aspetto che è in sintonia con quanto Bruce Terry ci ha detto prima. Fino ad ora questo lato dei dati è stato colto solo parzialmente sia da licenziati, è chiaro che noi abbiamo fatto, chi ha visto forse, se c'è qualcuno di voi che ha seguito anche il dibattito precedente, avrà visto in alcuni interventi quello che i data scientists come noi ogni tanto riescono a fare attraverso la possibilità di poter lavorare con una telecom piuttosto che con un'azienda telematica con cui facciamo pericolose triangolazioni. Ma per dire, ci troviamo al paradosso spesso di fare pubblicazioni con risultati interessantissimi senza poter pubblicare i dati su cui abbiamo fatto queste misurazioni perché sono coperti da mille vincoli per non parlare di chi non riesce neanche ad accedere a quei dati per poter fare delle ricerche. Questo è il caso, ad esempio, assolutamente standard nei confronti delle corporation come Facebook o Google dove per la maggior parte le ricerche sono interne. Attenzione, questo in prospettiva è un tema cruciale. Rischiamo di arrivare in un momento in cui le uniche università del mondo saranno Google e Facebook se non riusciamo a scardinare un modello di questo tipo perché avranno accesso a un patrimonio di conoscenza che è assolutamente inarrivabile da parte di qualunque università pubblica o privata che sia, peraltro. come carenza di concorrenza. Siamo in un mondo ora che assomiglia assolutamente al sistema feudale medievale per la Terra. Chi è che possiede la Terra di oggi? I dati di oggi? Pochi latifondisti, quelli nominati prima poche agenzie di sicurezza nazionale che ne fanno un uso, peraltro assolutamente parziale parzialissimo è stato detto molto bene da chi mi ha preceduto il target advertising è una piccola applicazione si potrebbe fare enormemente di meglio con i dati di Facebook o con i dati di Google il spiare le persone con questi dati è una piccola applicazione peraltro statisticamente molto discutibile si potrebbe fare ben di più importante per l'umanità con queste informazioni se fossero, diciamo, accessibili in un modo in realtà la maggior parte dei benefici sono veramente molto piccoli per la maggior parte delle persone le persone, diciamo, la sfera collettiva e individuale anche dell'informazione che si potrebbe oggi ogni singola persona ciascuno di noi è un'entità statistica genera ogni giorno una quantità di dati che se potesse essere in qualche modo rappresentata come conoscenza utile verso se stessi libererebbe una consapevolezza di noi e questo è il tema su cui chiuderò fra poco che non ha precedenti dal punto di vista anche proprio epistemologico fatemi dire in realtà invece per le persone oggi big data vuol dire quello che si è detto ora vuol dire sorveglianza vuol dire controllo sociale vuol dire intrusione nella sfera personale vuol dire anche mancanza di trasparenza capire come funziona il ranking di Google capire come funzionano i profili in cui io incastro piuttosto che non incastrare manca fondamentalmente un concetto di fiducia trasparenza rendere questo tema un tema che entra nel pubblico dibattito come un importante aspetto costitutivo della nostra società moderna in cui siamo entrati quasi senza accorgercene allora io quello che voglio dire è che questa situazione così come è cambiata dal medioevo se voi chiedevate a un servo della gleba medievale vi avrebbe detto che era impossibile pensare di poter cambiare la situazione poter fare in modo che la terra non fosse tutta quanta in mano a pochi feudatari eppure sono cambiate le cose perché sono cambiate? perché il modello non funzionava non era efficiente non era funzionale a far crescere una società allora perché deve essere ineluttabile il modello che viviamo oggi per i dati? perché dovremmo dire è ineluttabile questo che viviamo ora è possibile questo è il punto di vista di chi ha lavorato per tanto tempo con queste informazioni è possibile avere più privacy più diritti e più benefici da questi dati visti come bene è possibilissimo fare una cosa del genere bisogna soltanto capire quali sono i meccanismi che possono creare questa consapevolezza e io non credo che siano diciamo semplicemente affidarci alla concorrenza la concorrenza non funzionerà perché questi pochi soggetti hanno già dominato diciamo sono già dei monopolisti di formidabile potenza in realtà io credo che ci devono essere meccanismi che scardinano il sistema dal basso due linee d'attacco rapidissimamente e arrivo alla conclusione il primo punto è per fare un diciamo un data mining di questi dati sociali in modo eticamente responsabile sono secondo me due linee d'attacco e le due keyword sono privacy by design e new deal sui dati personali democratizzare i dati personali sul primo aspetto cosa intendo intendo dire che in generale tutti gli usi di tipo statistico generare informazione utile per la società vi faccio solo un esempio noi stiamo in questo momento collaborando con istat e con e con varie telecom per creare servizi statistici continuativi e molto precisi utilizzando big data che riguardano il benessere che riguardano la mobilità delle persone tutti questi tipi di cose possono essere fatte in modo da rispettare la privacy delle persone c'è la tecnologia per farlo e la sicurezza di questi sistemi può essere esattamente la stessa di quella che già abbiamo oggi per provider come possono essere i provider telecom per esempio cioè le tutele degli utenti per liberare servizi diciamo di carattere analitico verso la società sono esattamente quelle stato dell'arte che sono applicabili quindi quando le grandi diciamo case di big data si oppongono a fare questo tipo di operazione usano la privacy in realtà come scusa contro di noi è la scusa per non condividere ciò che potrebbe in realtà essere condiviso se ci fosse un contesto in una volontà di carattere anche politico che spinga verso certe direzioni spinga per esempio verso il fatto che è in qualche modo privo di senso che i dati che è la collettività a generare poi dopo non debbano generare valore che ritorna sulla collettività e ripeto tecnologicamente e anche a livello legale tecnico legale le possibilità per fare avanzamenti da questo punto di vista sono assolutamente stato dell'arte il secondo aspetto il secondo aspetto che voglio dire democratizzare big data allora io penso che qua ci vuole davvero un'alleanza tra tecnologia e società per far capire che si parte dalle persone bisogna disegnare ecosistemi di dati che sono centrate sulle persone sono rivolte a far capire meglio a noi stessi qual è il valore dei dati che produciamo continuamente e chiaramente non è semplicemente collezionare dati i dati non dicono niente è stato detto già a varie volte il problema è capire se io dalle mie tracce digitali posso tirar fuori conoscenza effettiva che mi fa capire meglio i miei punti di forza i miei punti di debolezza e come potrei fare scelte che vanno meglio incontro al mio sviluppo come persona nel contesto della collettività esempi potrebbero essere tantissimi in ambito sanitario in ambito mobilità vi faccio un esempio stupido ma per capirci se quando io vado a fare la spesa i dati che vengono raccolti servissero anche per farmi capire per esempio quali sono le mie abitudini di quando vado a fare la spesa rispetto a quando ci vanno gli altri in modo che io possa capire che con piccole variazioni magari ottimizzo i tempi o utilizzarli per capire se ciò che compro mi crea una dieta sana o piuttosto mi fa rientrare in pattern potenzialmente pericolosi dal punto di vista nutrizionale allora questo è soltanto un piccolo esempio pensate a esempi più importanti nel contesto della salute nel contesto della mobilità nel contesto delle relazioni sociali se fossimo in grado di poter generare un cortocircuito virtuoso fra la consapevolezza di sé e il fatto di partecipare in modo democratico a costruire conoscenza collettiva non regalando i dati non perché qualcuno mi spia d'accordo ma perché sono io che ho capito il valore del gioco a cui partecipo e sono disposto a condividere a rispondere a delle domande da parte di soggetti che io di qualche modo di cui ho fiducia perché mi danno questo raffronto fra la sfera individuale e la sfera collettiva che mi rende maggiormente consapevole di me stesso maggiormente padrone della mia conoscenza io penso che sia questo il tema decisivo cioè far engage citizen riuscire a incentivare le persone per far parte di un gioco che alla fine è un gioco di partecipazione democratica io penso che supereremo questa se mai ci riusciremo questa questa marcia verso un possibile grande fratello guardate anch'io ci credo e di fatto quello che noi viviamo oggi è una situazione soft da grande fratello in cui poche corporation e poche diciamo agenzie di sicurezza nazionale in un modo soft anzi quasi colorato sgargiante però ci stanno accompagnando verso una situazione che se la vediamo fra 40 anni potrebbe diciamo degenerare verso aver fatto accumulare in poche mani troppo potere troppo potere di conoscenza allora l'unica medicina secondo me contro questo tipo di deriva è contare sulla libertà delle persone sulla capacità che possono avere le persone di riconoscere il valore di queste informazioni ma non per venderla non per venderla a 5 centesimi di euro al like come diciamo prima perché questa secondo me è la visione del World Economic Forum che non porterà da nessuna parte perché a nessuno gliene frega di vendere qualcosa a 5 centesimi di euro di cui non conosce il valore mentre invece l'approccio è far capire il valore ai singoli della conoscenza personale o della famiglia verso la conoscenza collettiva io dico questo una città o un territorio è smart è intelligente soltanto se è fatta di cittadini partecipi che partecipano a farla vivere io non credo che la città intelligente sarà orvegliana sarà la città in cui io faccio quello che mi dicono di fare perché vedono in ogni momento quello che sto facendo non credo che questo sia smart credo che sia molto stupido invece e porterebbe la nostra società verso una deriva assolutamente sbagliata questo penso che sia veramente il tema democratizzare liberando le persone partecipazione e non sorveglianza che vuol dire peraltro anche diversità e non conformismo il fatto di potermi confrontare con gli altri mi permette anche di fare scelte controcorrente non per forza seguire la raccomandazione o di conformarmi al profilo io ecco sinceramente penso che questo sia un po' alcuni temi mi rendo conto alcuni anche di carattere fortemente politico non solamente tecnico ma credo che debbano essere complessi fino in fondo perché non dico tanto il big data ma la società monitorata attraverso le tecnologie la società fortemente interconnessa è un cambiamento di paradigma ma non lo è perché io non penso di essere un informatico molto poco nerd molto molto poco penso che sarebbe un errore madornale pensare che è la mentalità nerd che salverà il mondo credo che dobbiamo noi tutti capire che questo è un passo fondamentale è una rivoluzione effettiva che non è semplicemente un diverso modo di produrre ma è un diverso modo di stare insieme quindi o siamo in grado di capirla questa emergenza io penso che sia fondamentale parlarne in modo aperto come in occasioni come quella di oggi o altrimenti rischiamo di andare incontro a sorprese che vorremmo evitare grazie questa è un'iniziativa che partirà a livello toscano di partecipazione attiva per fornire dati di qualità sul funzionamento delle città è un piccolo esempio di cose di questo tipo trovate in giro le informazioni esatto beh abbiamo in realtà esaurito il tempo io speravo ci fosse tempo per un secondo giro eccetera mi sembra che avevamo e quindi vi ringraziamo di essere venuti io ringrazio i partecipanti per quello che han detto usciamo tutti quanti penso più scettici anche un pochino più pessimisti eccetera e quindi più più consapevoli arrivederci buonasera grazie a tutti Grazie.